La riflessione filosofico-politica di Erik Fögelin nasce anche nel contesto concreto dell'esperienza del nazionalsocialismo tedesco. In particolare Fögelin critica spramente l'ideologia del regime e lo fa in maniera talmente radicale da dover poi essere consapevole delle conseguenze che possono abbattersi sulla sua vita stessa. A tal punto che nel 1938, quando capisce che se rimane in Europa rischia di avere vita davvero grama, fugge con sua moglie negli Stati Uniti e riesce appena in tempo a salvarsi dalla cattura della Gestapo. E a quel punto fugge in America e lì prende a vivere una nuova vita. Tutta la sua riflessione filosofico-politica ragiona in qualche modo, in maniera diretta o indiretta, su temi connessi a questi. In particolare, come dice il titolo di quella che forse è la sua opera più importante, Ordine e Storia. Il rapporto è quello tra l'ordine e la storia, ma altri suoi testi importanti sui temi filosofico-politici sono La nuova scienza della politica del 52, Anamnesis del 66 e poi La storia del pensiero politico in otto volumi, Edita Postuma. Dicevo che tra i temi fondamentali di Fögelin, anche alla luce del proprio vissuto personale, è il nesso tra ordine e disordine. Anzi, potremmo dire che questo è il grande tema che Fögelin affronta, il rapporto tra ordine e disordine nella società come nell'animo umano. Le forme del disordine, spiega Fögelin, sono naturalmente molteplici e spaziano dall'oppressione alla violenza, dalla criminalità allo squilibrio mentale e tutte le altre più o meno eterogene forme di alienazione che possono colpire gli esseri umani. La tradizione religiosa comprende questo disordine nelle conseguenze della caduta del peccato originale, quindi ha una sua spiegazione precisa. Ma Fögelin intende intraprendere una ricerca più attenta, sia per trovarne le fonti, sia per analizzare la nostra incapacità di uscire da questo stato di disordine. La spiegazione religiosa non basta, ci vuole un plus lavoro concettuale ed ermeneutico. Una possibile risposta è rappresentata, secondo Fögelin, dall'ognosticismo, che egli studia attentamente. L'ognosticismo, questa antica corrente di pensiero sviluppatasi nel II e nel III secolo nell'ambito del cristianesimo, riaffiora, a giudizio di Fögelin, più volte nel corso della storia. L'ognosticismo afferma che il mondo materiale è intrinsecamente pervertito e corrotto, e che non può essere purificato o redento, da che esso non proviene da una causa buona e positiva. Detto altrimenti, il mondo è stato creato da un principio maligno, e se qualcuno vuole avvicinarsi a Dio, deve trovare la via di fuga, di allontanamento dal mondo materiale. Il nostro autore impiega l'ognosticismo come termine generale per alludere a tutte quelle strade che gli uomini hanno percorso nella loro ricerca di un mondo più alto, più vero, più spirituale, meno ingiusto. A giudizio di Fögelin, l'ognosticismo non riveste soltanto un interesse storico o erudito. Al contrario, questo quadro categoriale costituisce la cifra del mondo moderno. Il mondo moderno resta sotto le insegne dell'ognosticismo, secondo Fögelin, ed è così che Fögelin perviene a una critica severa e radicale della modernità. Per modernità egli intende l'insieme di tutte quelle ideologie politiche che nei secoli recenti hanno principiato ad allontanarsi dai dogmi della tradizione giudaico-cristiana e dalle posizioni filosofiche della Grecia classica, di Platone e di Aristotele in primis. L'ognosticismo, insieme con la modernità, è un rifiuto della realtà. Un rifiuto sia della realtà del mondo materiale, sia di quella saggezza ereditata dalle generazioni pregresse. Dal momento che gli ignostici sono permanentemente in lotta contro la realtà, essi devono prodursi un secondo mondo, un secondo mondo dove poter vivere meglio, diversamente. Da una diversa prospettiva, gli ignostici moderni inventano una dimensione fantastica dove poter risistemare e riaccomodare le componenti della realtà. Per Fögelin, a questo riguardo, il marxismo e il nazismo sono due forme di ignosticismo, con precisi scopi. L'idea di una fuga fuori dal mondo è stata mutata in una fuga all'interno del mondo stesso, ma in una nuova forma d'essere. Hanno preteso di cambiare il mondo uscendone, ma in realtà rimanendo al suo interno e modificandolo dall'interno. In entrambi questi movimenti, pur così diversi, il marxismo e il nazismo, per Fögelin abbiamo un'elite spirituale che stabilisce cosa sia bene e cosa sia male in termini rigidamente dualistici. E questa elite considera come proprio ufficio fondamentale l'estirpazione del male dal mondo per istituire un nuovo ordine sociale più giusto. La dimensione storica dell'esistenza umana, con i suoi limiti e le sue contraddizioni, viene rigettata, ed è rigettata a favore di una visione apocalittica di purificazione, di redenzione, una dimensione soteriologica volta a salvare la società per il tramite di una orgiastica celebrazione della violenza. Le forme moderne di ignosticismo si estrinsecano in quelle che Fögelin chiama le ideologie dell'uccidere. Le ideologie dell'uccidere sono quelle che pretendono di far valere il bene purificando la realtà dal male e utilizzando quindi la violenza. A giudizio di Fögelin la base concettuale che ha reso possibile lo sviluppo di queste ideologie dell'uccidere è stata sviluppata concettualmente nell'Ottocento soprattutto da tre autori, Hegel, Marx e Nietzsche. Sono autori molto diversi fra loro ma sono ugualmente spiritualmente malati, dice Fögelin, ed è per questo che egli li critica spietatamente intendendoli come la vera scaturigine del male novecentesco. In questa catabasi negli inferi, in questa discesa nell'inferno, come Fögelin esplicitamente l'appella, non si sarebbe potuta verificare una tale discesa se altri pensatori non avessero permesso a questi colossi del pensiero moderno di appoggiarsi e di trovare sostegno nelle tradizioni religiose, filosofiche e politiche occidentali. Sostiene Fögelin che gli esseri umani in ogni tempo possono aprirsi alla realtà o viceversa chiudersi e inventare una seconda realtà gnostica. Vero uomo, in senso pieno, è solo chi apprendendo dalla saggezza del passato riesca in qualche modo ad aderire alla realtà, riesca a rapportarsi in modo etico e costruttivo con i suoi simili rispondendo all'influenza del divino. Secondo Fögelin, l'essere umano vive nel mezzo. La coscienza umana si trova ad affaticarsi da un lato sulla natura e sul mondo materiale, dall'altro su Dio, sul creatore di tutte le cose. Sicché l'uomo è permanentemente in bilico, è un essere anfibio, ed essere veramente aperti al mondo e alla realtà in cui siamo conduce appresso la capacità di trovare la via che porta all'ordine, sia nella società sia nell'animo umano. Ed è chiaramente platonico questo riferimento tra l'animo e la società, tra l'ordine dell'anima e l'ordine della polis. Fögelin considera la filosofia e la rivelazione come due principali basi di intuizione dell'ordine. Per filosofia si riferisce Fögelin principalmente ad Aristotele e a Platone. E poi a tutti quei pensatori che si sono richiamati ad essi, a differenza dei tre malati nello spirito, Hegel, Marx e Nietzsche, che hanno preteso di inventare il nuovo allontanandosi dalla tradizione. Quando parla di rivelazione, Fögelin allude alle scritture giudaiche e cristiane, e quindi alle tradizioni che sono sorte a partire da quelle scritture. Fögelin vede due diverse forme di teofania, ovvero due diverse forme di manifestazione del divino nel mondo, ovvero mezzi mediante i quali l'uomo può divenire cosciente dell'influenza del divino come vera fonte di ordine nell'anima e nella società. Fögelin è stato a questo riguardo inteso, a torto, a ragione, come un filosofo neo-ortodosso per via dell'atteggiamento da lui assunto rispetto al passato, critico e in qualche modo al tempo stesso rispettoso. Quel che è certo è che Fögelin ha ragionato sempre, potremmo dire come tema fondamentale, sul rapporto fra ordine e disordine, e lo ha fatto impiegando le categorie dell'ognosticismo in relazione alla modernità.